Le esperienze europee di mobilità dolce si confrontano per due giorni in Abruzzo perché nel cuore del vecchio continente le greenways, ovvero le linee ferroviarie riconvertite in nuovi spazi di comunicazione, sono già una realtà. E allora la costa dei Trabocchi potrebbe presto essere il palcoscenico dell'esperimento nella nostra regione. A Fossacese e a Vasso si discute di questo in un incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti e che mira a stimare quanto le esperienze di altri paesi come Spagna, Francia, Belgio e Irlanda possano essere funzionali alla riprogettazione della linea ferroviaria lungo la costa. 42 chilometri toccando 9 comuni che potranno vedere trasformato uno spazio da un tipo di mobilità ad un altro, magari a velocità meno sostenuta e che possa valorizzare uno degli scorci d'Abruzzo più belli. Una greenway, brutalmente tradotta come via verde, che possa incentivare un nuovo modello di viaggio slow che permetta non soltanto di spostarsi per arrivare a una destinazione ma che incentivi la scoperta dei luoghi e la tutela del patrimonio naturale. È una parte quasi terminale di un progetto che è partito due anni e mezzo fa, o meglio è un punto intermedio estremamente importante. Noi due anni e mezzo fa abbiamo deciso come Camera di Commercio di investire le nostre risorse per lo sviluppo della costa dei Trabocchi, o meglio del prodotto turistico che costa dei Trabocchi, in parallelo con la realizzazione della pista ciclabile. E su questo abbiamo sviluppato tante azioni. Queste ferrovie dismesse hanno delle caratteristiche molto rilevanti dal punto di vista turistico-paisaggistico, prima di tutto perché spesso si trovano in luoghi ameni dal punto di vista paesaggistico, ma hanno anche delle caratteristiche di pendenza, di lontananza da strade, da percorsi viari e molti altri aspetti che le rendono molto utili, molto facilmente trasformabili in piste ciclabili o ciclopedonali. Un'opera strategica sarà un brand turistico finalmente per i nostri territori, per la nostra realtà che la provincia sta portando avanti e ha portato avanti con grandi difficoltà per la complicazione del progetto, per la difficoltà di mettere insieme tanti aspetti di una sedime ferroviaria che era stato anche vandalizzato, occupato. E quindi questo progetto è arrivato alla termine, il 2018 sarà l'anno della realizzazione e sarà per noi una prova importante.